Maestro Sabiu, direttore dell'orchestra di Sanremo. Allora, questa OptiPoll è una citazione o un plagio? È una citazione, assolutamente una citazione, anche un omaggio che ho fatto ai Sigur Rós per un delle mie band preferite. Quindi verrà messo a referto sulla CIA e dichiarata come tutto? Ma io non dichiaro nulla, il pezzo è loro, quindi la RAI, quando pagherà la CIA, pagherà i diritti a loro, cose loro. Io non ho depositato nulla, non voglio la paternità di quella cosa perché non ce l'ho. Un po' di gente si lamenta del fatto che il pezzo venga chiamato Sabiu 7 in trasmissione. Viene chiamato Sabiu 7 semplicemente perché quando Antonella l'aveva ascoltato la prima volta, c'era un cd con tutti i miei stacchi, quello era il numero 7. Quindi lei ascoltava le robe e poi diceva, fammi risentire ancora il numero 7 e di nuovo e di nuovo e l'ha chiamato così e lo sta chiamando così. Hai fatto altri stacchetti per il festival? Ho fatto robe sui Metallica, sui Dream Theater, su Bjork, su David Bowie, sono tutte citazioni di cose che a me piacciono a me, i miei pezzi preferiti. Grazie. Quindi è nata sta roba che alla fine l'ha alzato il polverone, ma è solo polvere, quindi non è quella di Borgo. Grazie, ciao. Grazie a voi, ciao.